Oggi preparo con voi gli scazzoppoli, detti anche scugnizi, diavoletti, iniziamo! Per prima cosa in un contenitore mettiamo 250 g di farina 00, poi sbricioliamo 5 g di levito fresco, se usate il secco 2-3 grammi massimo, aggiungiamo 150 ml d'acqua a temperatura ambiente ed iniziamo ad impastare con un cucchiaio. Ovviamente se disponete di una planetaria potete impastare con la planetaria senza alcun problema. Ora aggiungiamo 5 g di sale ed iniziamo ad impastare a mano. Dobbiamo lavorare l'impasto per almeno una decina di minuti. Dopo aver lavorato l'impasto per una decina di minuti formiamo una bella pallina, vedete ho pulito completamente la ciotola, copriamo con un canovaccio e ad una temperatura non inferiore ai 20-22 gradi facciamoli evitare per 6-8 ore. Bene, quando l'impasto sarà a buon punto tagliamo i pomodorini in 8 parti, più piccoli li facciamo meglio è, e una volta tagliati tutti ci spostiamo sui formelli. In padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchietto d'aglio e quando l'aglio sarà leggermente dorato lo togliamo, aggiungiamo i pomodorini, mettiamo qualche cucchiaio di salsa di pomodoro, volendo potete utilizzare anche solo la salsa, i pomodorini in statola, i pomodorini freschi, i pelati, quello che preferite, regoliamo leggermente di sale e facciamo cuocere a fiamma medio-bassa senza coprire per 15 minuti. Passati i 15 minuti spegniamo la fiamma, mettiamo un po' di basilico e lasciamo qui da parte. Ora vedete l'impasto è cresciuto, spolveriamo un po' sul piano, lo scendiamo con le mani, se non lo sapete fare potete fare una cosa, lo stendete con il mattarello ma è facilissimo, vedete si fa da solo, lo stendete un po' col mattarello e poi magari lo fate riposare un po' per una mezz'oretta. Ecco qua, lo lasciamo spesso circa un centimetro e mezzo, vedete così, e poi con una rondella tagliapizza o con un utensile che avete a portata di mano, andiamo a tagliare delle striscette così, la forma deve essere irregolare, io adesso per comunità la sto tagliando dritto così, e poi facciamo così, vedete? dei pezzettini, qualcuno più lungo, qualcuno più corto, non è un problema, e ce ne andiamo a friggere. Eccoci qua, olio di semi di arachidi o di girasole abbondante e caldissimo, e friggiamo una decina alla volta, non vi so dire quanto ci vorrà, ma quando saranno belli dorati li togliete. Ok, a questo punto, quando avranno preso colore come vedete, li giriamo un po', li togliamo con una schumarola, li facciamo sgocciolare e li mettiamo momentaneamente su un piatto con della carta assorbente. Ok, una volta fritti tutti, potete fare due cose, o metterli, come sto facendo io, nella salsa e mescolarli un po', oppure servirli e metterci sopra la salsa. Sopra ci mettiamo il parmigiano grattugiato così a falde larghe, e guardate qua, ovviamente si mangiano con la forchetta, ma io ne voglio assaggiare uno con le mani, guardate qua, mamma mia quanto è bello! Sono una bomba! Sopra ci mettiamo!